Ultima in classifica, staccata di 9 punti dalla zona salvezza, la salernitana prova a svoltare a Cagliari. In Sardegna i Granata di Liverani andranno a caccia di un successo che sarebbe il solo risultato utile per dare un senso ed una prospettiva al finale di stagione. Dopo il pari di Udine che sta di occasione sprecata visto che i bianconeri padroni di casa erano rimasti in dieci a metà della ripresa e dopo la sfuriata di Rivolino nella ripresa degli allenamenti a seguito del caso Dià, ora la salernitana deve dimostrare di avere voglia e determinazione da vendere per rispettare la maglia, i tifosi, il club ed anche il massimo campionato. Provarci non costa nulla ma che almeno ci si provi per davvero. Liverani recupera qualche pedina in difesa ed ha abbondanza a centrocampo e sulla tre quarti. In avanti si dovrà fare senza Dià ma è stata alla fine una costante della stagione. Chi giocherà dovrà metterci impegno, convinzione e rabbia agonistica per provare ad impensierire la difesa di Ranieri che ad Empoli ha tenuto la porta inviolata ma che di solito non è impenetrabile. Il Cagliari avrà a sua volta tante assenze in attacco ma potrà contare sul sostegno di uno stadio pieno e caloroso. La serietà dovrà essere brava a sottrarsi al ruolo di vittima sacrificale, ora più che mai conteranno le motivazioni rispetto a tutte le considerazioni di natura tecnica e tattica. Grazie a tutti.